VOLO IL PUN 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 VOLO Ci sono massacrati GIOI Per Riccardo Ceparulo deve abbandonare il campo. Ancora Parva con il disco in mano. Prende il disco Parva. Torino ci crede. Ci avviciniamo alla halftime. Torino. Insider il numero andato che chiude la meta. Contro break di Torino che si sveglia dal torpore. Si porta su 5-2 tutto e ci vuole una meta di Parva per restare davanti. Fai un commento caldo. Davanti, Davanti, Davanti. Davanti, davanti, davanti Davanti, 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 davanti Davanti, 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 davanti Davanti, davanti, davanti Davanti, davanti Davanti, davanti, davanti Davanti, davanti, davanti fallo contestato, discottura indietro, si rigioca che tristezza Falco Disco non ceccato, si rigioca ancora tensione in campo l'Andrea Pagana si gira ho paura Metà di Voladora Monteggio di 6 a 2 per i Voladora, l'Altime sarà ai 7 punti sono passati 38 minuti di gioco Favi un po' di parabrake dance Un po' lento Oh, un'altra partita del cazzo filmate Fai che buona Fai che spara, no, ti allungo Fai che buona, dai, no, ti allungo Dai, 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 dai Fai che buona rischia lo sbordolino Manny ma si salva disco contestato chiamato giù il disco a Manny non c'è accordo si rigioca l'azione lancio lungo direttamente fuori dai un consiglio il disco ancora fermo partita un po' addormentata il pubblico rumoreggia la rurrata di Randazzo la rondata ecco la meta di Capitan Cocco 6 a 3